Ciao a tutti, siccome questa è la mia stagione preferita, oggi vi porto un po' a vedere l'autunno in Corea Quindi spero che il video vi piaccia e seguitemi Ok, devo ammetterlo Per la parte in cui vi dicevo che vi avrei mostrato l'autunno in Corea e adesso Saranno passate un paio di settimane, quindi mi sa che vi mostrerò più l'inverno che l'autunno In quanto fa un freddo della madonna e quindi tutte le foglie sono cadute Però vediamo dai, farò il meglio possibile Avrei potuto nascondere il tutto tramite la magia del montaggio Però dai, sono una persona onesta, più o meno Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!